Amici allenatori bentornati su Socher Champs, siamo tornati qui con un nuovissimo video, siamo arrivati in meno di 6 giorni a 55 mi piace, beh un record per Socher Champs, nessun video era mai arrivato così lontano, o meglio da quando ho detto che per avere un nuovo video servivano un numero minimo di mi piace, vi state impegnando? In meno di 6 giorni siamo arrivati a tanto, quindi più di un video alla settimana, vedo che questo gioco inizia a piacervi, e allora per il prossimo episodio continuiamo così e vi chiedo 60 mi piace, vediamo quanto ci stiamo questa volta, spero meno di 6 giorni, ma comunque vedremo. Siamo arrivati alla trentesima settimana, mancano 8 giornate alla fine e sembra che tutto stia andando per il meglio, visto che abbiamo 9 punti di vantaggio sul Virtus Francavilla. 24 punti ci separano dalla fine del campionato, quindi chi ha meno di 38 non può ambire lo scudetto più, quindi per esempio la Paganese se facesse 24 punti arriverebbe a 63, ma dubito ci riuscirebbe senza che il Palermo almeno un punto potrebbe farlo, no? Quindi, la squadra è questa, sta crescendo molto, sembra quasi pronta già per fare la serie B, e partiamo col Potenza. Bene, il Potenza è una buona squadra, vi devo dire, vediamo. Vediamo, vediamo, attenzione perché la porta è sguarnita, e purtroppo Alberto Antoniazzi segna. Purtroppo c'è ancora Caravascenco in porta, ma per questo non possiamo far nulla. Però noi abbiamo Fabio Silva lì davanti che sta facendo il devasto in Serie C, credo sia un bomber al pari di Holland, però ha bisogno di spiccare. Mukoko prova su punizione, e Fabio Silva di tacco ribalta la partita. Bellissimo, direi. Comunque, vedo che lo short vi è piaciuto tanto quello che ho fatto di Social Champs, perché ha raggiunto più visualizzazioni, credo, di tutti gli altri video messi assieme. Aspettate, facciamo una bella finta. Eccola qua, Fabio Silva! Dicevamo, ho fatto uno short e vi è piaciuto tantissimo. Se dovessero capitare partite epiche come quella del Virtus Franca Villa dove testa prova la follia, potrei anche rifarla. Un altro short, che dite? Attenzione no! Signori, purtroppo è successo, Fabio Silva si è rotto. Non so per quanto in realtà, anzi, scusate. Abbiamo due kit medici, e siamo a fine stagione. Comunque li dobbiamo usare perché non ce li restituiscono. Quindi, sarà il caso di usarli bene. E con bene intendo per curare il nostro miglior giocatore della squadra. Alla fine, come vedete, custodirli fino alla necessità e servito. Caravascenco dove se ne va, non lo so. Però, il Palermo vince con una tripletta di Fabio Silva. Purtroppo però Fabio non è più in campo, quindi non potrà continuare la sua streak, diciamo, di gol. Ma lasciamo che sia il giovane Cardenas a prendersi il campo per un po'. E vi dirò di più. Finché vinciamo e pareggiamo, facciamo così questa regola, Fabio Silva non torna. Cioè, nel senso, non lo curo cittando. Anche se, devo dire, Cardenas deve ancora imparare tanto. Attenzione ai passaggi. Esce a vuoto il difensore, ma recupera. Andrea Trotta la spazza. Partita delicata, perché vincendo potremmo anche chiudere definitivamente la pratica a scudetto. Probabilmente. Il Palermo vince. Contro il Potenza, da sfavorita, ma perdendo Fabio Silva. Però, questa vittoria viene replicata dalla Virtus Franca Villa. Adesso ci sono soltanto 21 punti in gioco. Voglio monitorare questa situazione dello scudetto. 21 punti significa che a 44 già si devono arrendere. Quindi, fino al Teramo ci sperano ancora. Ma oltre al Teramo non vanno più. Attenzione. Il PSG, il Chelsea, il Real Madrid, l'Atletico, il Dortmund, il Bayern Monaco, il Sevilla e l'Olimpia Cosse distruggono le altre squadre. Quindi, niente italiane avanzano. Niente nel Milan, nell'Atalanta, nell'Inter. In Europa League la Lazio passa 4-3, come si chiama, come il Palermo col Virtus Franca Villa. E il Napoli perde miseramente. Fabio Silva fuori tre settimane. Lasceremo l'attacco, il fulcro dell'attacco, al giovane Cardenas. Finché abbiamo questi punti lo lascio a Cardenas. Poi in caso lo passa a Mucocò. Perfetto. Ci siamo. Attenzione. Quasi... Vabbè. Lo facciamo ora in corso. Tanto non possiamo fare chissà che cosa. Karavashenko è giusto che torni in panchina. Avrà modo di brillare più avanti. Attenzione. Cardenas riceve una bella palla, ma poi la spreca perché non è abbastanza veloce. Il giovane brasiliano deve fare ancora molto prima di diventare un attaccante. Per esempio, un gol. Diego Cardenas segna. Signori, è arrivato il momento di sprigionare la bestia e di far segnare Diego Cardenas. Rigore non parato da Mancini, evidentemente ancora stanco dell'infortunio precedente. Vediamo la partita. Come si evolverà col Taranto. Che difesa, signori. Che difesa. Pronti ad affrontare la Champions League, quasi. No, sto scherzando. Non siamo arrivati neanche in Coppa Italia. Come dovremmo arrivare in Champions? Molto bene. Difesa se ne va un po' a trote e quindi la notte ribalta la partita. E vi dirò di più. La notte la partita se l'è proprio conquistata con un altro gol. Vediamo se Cardenas o qualche suo amico riesce a fare qualcosa. Grombeck la passa a Mucocò. Che Mucocò avanza. 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 Passa a Brewster. L'ha la sinistra. Che però non sa che fare. Vede uno spazio. Brewster! Da alla sinistra. Si costruisce un gol meraviglioso. Meraviglioso! Così il secondo tempo sarà meno pesante. Certo che la notte la partita proprio in due minuti l'ha capovolta. Oh no no no! Oh! Ma cos'era questo gol? Vabbè questo praticamente è lo script del gioco. Taranto. Attacca ancora. Mancini para. Serve qualcosa di migliore per ribaltare questa partita. Per esempio mettere Mucocò in attacco e aspettare per il resto. Vediamo come si evolve. No ma mi sa che questa è persa. Brewster su punizione. Prova la follia Brewster! Come vecchi tempi! Brewster 3 a 4. Attenzione non è finita! Non è finita! Palla per testa che la passa Brewster che vede di nuovo testa. Attenzione ragazzi sembra qualche miracoletto stia arrivando. Diego Cardenas la passa a Mucocò che si gira. Però Mucocò è un po' messo male. La ripassa a Cardenas che la ripassa Brewster. Si fa spazio? Brewster! Brewster la pareggia! Brewster la pareggia! Signori non sarà stata spettacolare come la rimonta del Virtus Franca Villa. Ma è davvero un bel pareggio. Chissà magari ve lo metterò in highlights. Che dite? Il Palermo adesso è avanti di 10 punti sul Virtus Franca Villa. E in ottica Scudetto sono 18 punti. Quindi chi ha 48 già non può andare avanti. Tipo il Monopoli se la gioca ancora. Ma a stento. Ma il Monopoli non può fare niente? Karavashenko sale di overle e arriva a 60 finalmente. Eeeh. La rosa c'è. Devo dire anzi. I giocatori crescono bene. Ma Diego Cardenas può fare molto di più lo so. Fabio Silva è ancora fuori. Purtroppo per lui. Dovrà aspettare. Ora chi abbiamo? Il Foggia di nuovo? No. Sì il Foggia. Un'altra volta è Foggia. Beh il Foggia, il Foggia, il Foggia. Non credo dovremmo avere problemi particolari. Se non Cardenas che deve conquistarsi un altro gol almeno. Deve segnare Cardenas. Ramsey, su punizione, che gol signori. Guardate che gol. Proprio rimbalzo, gol. Meraviglioso direi. Non vi concentrate solo sull'aspetto dei giocatori. Che magari possono essere un po' bruttini. Ecco. Comunque avremo tanti problemi. Comunque un altro gol su punizione. Fabio Silva purtroppo non segna da un po'. Ma perché è infortunato. Ma Cardenas ha fatto un gol in due partite. Mentre Silva ne avrebbe fatti almeno sei. O sette. Massimo Orlando però castiga il Palermo. Rendendo il risultato un pochino meno dolce. Anche se la doppietta di Ramsey fa ben sperare. Perché un giocatore che fa doppietta diverso da Fabio Silva. Quando si era mai visto? Forse solo Mucococcia era riuscito. Attenzione Trotta. A tutto il campo lui. Si fa tutto il campo. E generosamente la passa a Diego Cardenas. Che segna il suo secondo gol. Nella sua sostituzione a Silva. Ma subito subito. Il Foggia attacca pericolosamente. Attenzione al Foggia. Massimo Orlando. Doppietta personale. E la partita è di nuovo in bilico. Non voglio pareggiare. Non voglio rischiare di portarla ancora per le lunghe. Però il Palermo ha l'occasione per chiudere la partita. Grombaic. Che la passa a Mucoccia. Crossa per Diego Cardenas. Che la ripassa a Mucoccia. Mucoccia la prova sul suo palo. E sbaglia. Però l'azione non è finita. La palla torna a Mucoccia. Che torna indietro. Vede uno spazio? Deve provare il gol. E Diego Cardenas trova il goooole. Bel gol. Bel gol di Cardenas. Mi è piaciuto. Dubito possa fare tripletta però. Attenzione Trotta. Trotta si fa tutto il campo un'altra volta. Trotta. Generosamente. Concede a Cardenas la sua tripletta. Signori tripletta di Cardenas. Che bel risultato per il giovane. Anche se la doppietta di Ramsey è molto più bella a quanto pare. Ecco. Solo le prime cinque adesso si giocano allo scudetto. Con il Catania secondo. Non so come. Qui italiane non ce ne sono. Fabio Silva torna ad allenarsi in Mircostella. Aspettate. Che giocatore avevo dato a Mircostella? Ah. Quarastelia. Quarastelia ha un bellissimo potenziale. Mannaggia. Vi ripeto ragazzi. Me lo prenderei al centrocampo. Quarastelia. Cioè 74-9 milioni. Contro i. Gli 8 di Ramsey magari. Me lo prenderei. Cioè Mucocò 8 milioni e mezzo vale già. Ma non mi arrivano offerte. Non posso vendermi giocatori così de botto. Con l'Avellino simuliamo tanto vinceremo noi di sicuro. Però. Cardenas fa un gol e Brewster anche. Fabio Silva è subentrato a 89. Volete farmi credere che la sua guarigione è completa? Non lo so. Ma soltanto il Catani adesso si gioca la promozione con noi. 10 punti su 12. Perché già il Francavilla è fuori dei giochi. Italiana è rimasta solo la Lazio. Che dovrà competere. Fabio Silva si riprende il centrocampo. Anche se ormai non è più il puro bomber di prima. Ma comunque lui c'è. Molto bene. Teniamo d'occhio questa partita perché potrebbe essere decisiva. Appunto per lo scudetto. Di serie C. Se vinciamo. Abbiamo vinto lo scudetto. Possiamo anche perdere. Ma il Catania deve fare il nostro stesso risultato. Ecco. Oppure comunque se il Catania non vince abbiamo già vinto lo scudetto. Buongiorno Fabio Silva. Bentornato in campo. Fiuta il gol. Mettendo la palla tra difensore e portiere. È lui. L'uomo scudetto. È lui che ci ha portato fino a qua. Attenzione trotta. Abbiamo scoperto che ama trottare in campo e farsi letteralmente 20-30 metri di fila per consegnare poi la palla. Guardate. Corre, corre, corre. E Fabio Silva fa doppietta. Insomma è il suo migliore amico ecco. È il centrocampista più scarso probabilmente. Attenzione testa. 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 E riesce sempre a metterci la testa. Anche perché dov'è? Trotta è il difensore più scarso. Nonché il giocatore più scarso dell'intera Rosa. Ma fa dei bellissimi assist. Ma in tutto ciò. Il Catania. L'altra squadra siciliana. Che cosa sta facendo? Comunque se arriviamo con un commento con 30 mi piace con scritto highlight. Ogni video conterrà un momento saliente della partita di Social Champs. Facciamo così. 20 mi piace dai. Che ne dite? Che ne pensate? Attenzione. Non ci credo. Ha segnato un altro testa. E il Catania sta perdendo con la Paganese. Vabbè dubito. A parte gli scherzi dubito che lo scudetto possa essere preso da qualcuno di diverso da noi. Però penso molto probabilmente al 99% che la pratica sia ufficialmente al 100%. Ragazzi. Lo scudetto è chiuso. Vediamo se Mukoko su punizione. Ma è che tira a giro spettacolare. Guardate hop. E la palla gira. Dubito che il Bari possa fare 5 gol e il Catania 2. Poi se succede è chapeau. Signori. Il Palermo conquista lo scudetto. Campioni. Campioni. E la Lazio è ancora in Europa League. Signori. Il Palermo è campione di Serie C. Credo non ci sia molto altro da fare qua se non andare a finire la stagione. Abbiamo il Teramo adesso. Contro. Vabbè dai ma queste partite ce le faremo ora un po' così. Un po' più scialle ecco. Senza pressione addosso possiamo giocare sereni e provare magari qualche colpo di fantasia. Vediamo per esempio il colpo a giro di Grombike se funziona. Oppure la palla all'incrocio di Mukoko. Niente. Adesso voglio provare un po' di fantasia. Un po' di tiri spettacolari. Vediamo. Se riesco. Poi se entro nel 65esimo non riesco provo un gol normale. Però. Attenzione Trotta. Vuole il gol. Trotta vuole il gol. No. Trotta deve fare il gol abbiamo detto. Gli dà la palla. Dribbla. Attenzione Trotta. Il difensore più scarso della rosa. Riuscirà a diventare per una partita l'attaccante più prolifico? No. Non in questa azione almeno. Infatti Mukoko gli prende la palla e non gliela torna. Ma ora chi ha la palla? Testa. Prova il tiro a giro. Wow. Che cosa ha fatto Testa? Ma non ci credo. Vabbè dai forse. Credo che i tiri spettacolari ancora non siano nel mio repertorio. Quindi proviamone uno normale a prossima occasione. Sempre se ci capiterà una prossima occasione. Ehi. No. L'occasione è andata al teramo. Quello è. Distante. Te. Lol. E vabbè. A quanto pare dovremmo perderne un po'. Eh. Tocca la palla ma non la spazza. No. Si è buttato. Bravissimo. Recupera. No. Ok. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta comunque. Niente. Il teramo ha deciso che vuole distruggerci per questo finale di stagione. Boh. Magari gli regaliamo dei punti per la salvezza. Che vi devo dire. Bene. Partita meritatissima dal teramo. Perché sono stato stupido a sprecare tutte le occasioni. Ma. Pazienza. Per questo finale di stagione. I quattro fortunati panchinari avranno l'occasione di esordire. Tutti e quattro assieme. Ma sì dai. Contro il Messina poi. Derby. Un altro derby siciliano abbiamo qua. Curioso. Curioso. Comunque sia. Ok. Rocco parentato. Signori. Rocco parentato. Ci siamo fatti segnare da Rocco parentato. Iobbo. Comunque. Non so. Se avremo un'occasione la sfrutteremo. Magari la faremo sfruttare al giovane Cardenas. Chissà. Oppure a lui. Guardatelo in tutta la sua bellezza. Anche se è di spalle. L'eroe di una stagione. Fabio. Silva. Pem. Beh il Messina a quanto vale vuole rovinarci la festa vedo. Attenzione. Una difesa un po' improvvisata spara lontano il pallone. Ma il Palermo adesso ci riprova. Jakob Ramsey. Al suo amico Fabio Silva. Che che ve lo dico a fare. Segna pure. A fil di palo. Guardate qua. Olè. A fil di palo. Due. A uno. E il primo tempo col Messina. E' finito. Ma non è finita certo la partita. Perché il Messina adesso attacca. Attenzione a Karastelli. A finto. Vero Karabaschenko. Che comunque pare il pallone. La palla. Ce l'ha Malavenda. Che la passa di diritto a Fabio Silva. Che vabbè. L'appoggia in rete con una facilità inaudita. Vedrete però ragazzi. Stiamo giocando ad alta difficoltà. Avremo tanti 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 problemi. Quando arriveremo in serie B. Non pensate che sia tutto così facile. Così come il gol di Ramsey che sto per fare. Vedete. Il gol di Ramsey non è entrato. Perché ho sbagliato io. Comunque. C'è una sorta di giustizia. Una sorta di karma nel gioco. Chi è qua il di numero due? Oh. Grande difesa. Grande Karabaschenko. Devo dire anzi. Si sta meritando un po' la porta. Per quest'ultima giornata. Matteo Adagio. E Malmessina a tutti i giocatori tarocchi. Wow. Malavenda. Per una giornata entra e tira le punizioni così. Malavenda. Wow. Non pensavo sapessi tirare le punizioni così bene. E la partita si deve concludere ovviamente. Ma non sarà 4-1 il risultato finale. Mukoko. Ci mette la firma. In una partita in cui Fabio Silva non ha fatto la sua solita 5 gol. Ne ha fatti solo, solo, tra virgolette, 3. Ha lasciato spazio ai suoi compagni di squadra. Signori. Manca solo la Juve Stabia. Rimettiamo i migliori perché me li voglio ritrovare per la prossima stagione già schierati in campo. Speriamo di poterla simulare rapida. No. Come pensavo si può fare. Ultima partita. Mukoko doppietta. Brewster parente. E Vincenzo Rossi, vabbè, a fregarci la gioia dell'ultima vittoria. Il campionato è finito. La Lazio è ancora in corsa. Adesso tifiamo la Lazio. La Lazio è in finale di Europa League, signori. In Serie C. Che cos'è questo? What? Aspè. Bispesa, Renovara e Palermo? Scusate ragazzi, ma che cos'è questo? Bispesa e Renovara. Ma da dove vengono questi? Ma? Clamoroso. Allora non è finito. Non capisco cosa sia questa partita finale. Che è un torneo che mi sono perso. Non so se c'entra l'accesso in Serie B. Ma mi devo impegnare però. Vabbè, Fabio Silva c'è. Quindi l'impegno mio è relativo quando c'è lui. Attenzione perché non è finita. Ancora qualcosa si può fare, vedo. Qualcosa di pericoloso che potrebbe magari portarci a perdere. Vabbè, ma il Bispesa rappareggiata è una triangolare questa. Quindi, oi, 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 oi. Tanto li dobbiamo usare questi, diciamo, questi kit medici. Ramsey torna in forma. Resuscita. Come la Fenice. Attenzione, occhio. Attenzione. Vede che il Bispesaro non è lento e non è scasso, soprattutto. No. Massimiliano Danini ci ha segnato. Ma io non capisco questa cosa. Cioè, chi vince il campionato dovrebbe direttamente salire dalla Serie C alla Serie B. Vabbè, Fabio Silva fa gol. Aspettate, assist di Luzzana. Ma chi è Luzzana? Non ci credo, un difensore. Un difensore che fa assist in questa squadra è raro. Vabbè, nel dubbio, vincendo questa possiamo star tranquilli per quella dopo. Quindi, Fabio Silva. Che la passa stranamente a Mucocò. Ok, ragazzi. Questo tiro a giro forse era uno dei più belli che abbia mai fatto. Perché, guardate, la palla sembra che stia uscendo e poi torna. Va bene, 3-1 dovrebbe essere rassicurante come risultato. Se solo il difensore non fosse andato a trote insieme al portiere. Niente, oggi tutti vanno a trote. Bu. Attenzione perché la partita non è minimamente finita. Sul 3-2 può ancora essere pareggiata. Quindi stiamo attenti. Perché non voglio brutte sorprese. Piano. Difendiamo. Spazza. Spazza Luzzana. Spazza. Al minuto 85 il Vispesaro ci riprova. Ma devo stare attento. Non devo fare fesserie. Spazza. No. Ragazzi, no. Questo pareggio non mi piace. Non so neanche che cos'è questa partita. Ma pareggiare così è pericoloso. Ora siamo io e il Novara. Che ci giochiamo la vetta. Così a caso. Usiamo anche il boost energetico. Così stanno tutti bene. Non so perché. Ma dobbiamo vincere questa partita. In modo netto. Subito. Palla a Fabio Silva. Che pur di segnare sicuro. La passa Muko Ko. Primo gol per Muko Ko. Cosa sta succedendo? Cosa sono queste partite? Perché le stiamo giocando? Attenzione a Ramsey. Che fa tutto da solo. E la mette all'incrocio. Al secondo palo. Contro il Novara. Dobbiamo vincere in modo molto più ampio di così. Cosicché il Novara farà un pareggio. Una sconfitta. Il Bispesaro farà due pareggi. E il Palermo farà un pareggio e una vittoria. Cioè tutti abbiamo fatto un pareggio nella prima. E poi una vittoria. Un pareggio e una sconfitta nella seconda. Attenzione perché il Novara non ha finito. Elia Cervellin. Ma come? Boh vabbè. Attenzione perché il Novara sembra essersi un po' ripreso dallo shock dei tre gol. Attenzione no. Bartolo Monti. 3 a 2. E allora nulla è finito ancora. Signori ma il Novara che... Oh il Novara è un file ragazzi. Oh. Cioè mi ha ribaltato 3 a 0 il Novara. Attenzione no. No ragazzi. Che sta succedendo? È un incubo. Incubo per il Palermo che prende addirittura il quarto. No. Cosa sta succedendo? No ragazzi non ha senso. Il Novara è OP in questa partita. Cioè ho i migliori in campo. Al massimo della forma e non sto riuscendo a fermare. Ok ragazzi. Ok ragazzi abbiamo capito tutto. Abbiamo capito. No no no. Non so che dirvi. Cioè il Novara è attaccato. Sta attaccando anzi con una prepotenza assurda. Cioè questa è la prima volta che riesco a fare un intervento in difesa. Ok ora non posso sbagliare più. Zukovski non può sbagliare più. Chi c'è là? Fabio Silva. Abbiamo scherzato tanto in questa stagione ma quando ho bisogno di te seriamente perché non ci sei Fabio Silva no. Ok riproviamoci. Chi abbiamo adesso? Luzzana. Da difensore si fa tutta la fascia. Però c'è sempre lui. Fabio Silva. 5 a 4. Non è finita ancora. C'è speranza per prendere il sesto dal Novara. Però la tira sul portiere. Attenzione il Palermo ha un'altra azione signori. Attenzione con calma. Fabio Silva. Proprio lui no. A chi? Piano. Piano 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 piano. Fabio Silva. Non può rischiare di tirare in porta. È marcato. Fabio. No. No. Abbiamo sprecato due occasioni già. Non so che succede se perdiamo questa partita. E non vorrei scoprirlo. Ma purtroppo è successo. Novara vince il campionato di Serie C. Ma in che senso? Piano mi dite che ho perso i playoff. Ragazzi non ho perso i playoff vero? No ragazzi ho paura. Ragazzi che succede? Aspettate. Non sono rimasto in Serie C vero? Ho paura di questo fine stagione. Ma ho paura che purtroppo io sia rimasto in Serie C. O no? Devo aspettare. Giocatore dell'anno Leo Messi. Il Guiana in Nord America o il Vicenza in seconda divisione? Ma anche no. Io sono per il Palermo. Hello? Bene. Siamo in... Siamo in Serie B ragazzi! Siamo in Serie B! Siamo in Serie B ragazzi! Avevo pensato malissimo. Ma siamo in Serie B. Siamo arrivati in Serie B. Ma sarà la prossima la giornata in cui venderemo magari Ramsey a 20 milioni? Ok. Iiii. Che dire iiii? Ciò che si preannuncia è davvero speciale. Abbiamo una bellissima rosa. Ma le sorprese non finiscono qua. E va bene ragazzi il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Scusate se è lungo. Commentate con Fabio Silva. Scritto maiuscolo e tutto attaccato. Se siete arrivati fino a qua. Mi sono letteralmente cagato addosso. Però mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per seguire le novità. Lasciate tanti tantissimi mi piace. Passate dal server Discord, dal canale di Dice e dal canale di Giuseppe Novelli che avrà fatto la copertina di questo video. Detto ciò è davvero tutto. E dopo 30 minuti noi ci vediamo con un prossimo video! Ciao!